Buonasera a tutti, continuiamo a parlare questa sera di piccoli rimedi per le patologie gastrointestinali. Questa sera parliamo di Colocintis, è una pianta erbacea della famiglia delle cucurbitacee ed è una pianta rampicante. È una pianta che potete coltivare anche nei vostri orti e nei vostri giardini, può raggiungere anche i 3 metri di altezza, ha delle grosse foglie e produce dei fiori di colore giallo. Il frutto assomiglia molto a delle zucchine un po' più panciute e ha quindi questa buccia molto spessa. Dal punto di vista della medicina naturale, il Colocintis viene utilizzato proprio per la contrazione gastrointestinale. Cosa succede? Spesso e volentieri quando abbiamo problemi di dissenteria, abbiamo proprio il crampo all'intestino prima della scarica. Quindi in tutti quei casi dove la dissenteria è accompagnata da dolori addominali, potete abbinare il Colocintis. Spesso e volentieri il Colocintis va molto bene anche nelle coliche gassose del lattante. Cioè tutte quelle volte che vedete il bambino piccolo che ha mal di pancia e migliora la sua situazione scaldando la pancia oppure coricandosi sulla ventre, quindi a pancia in giù, in tutte queste situazioni potete usare il Colocintis. Colocintis. Spesso e volentieri Colocintis viene utilizzato in abbinamento a podofillum perché sono due piante ad azione sinergica. Una blocca la contrazione intestinale, l'altra calma i dolori e quindi potete tranquillamente sopperire alle piccole patologie gastrointestinali di questo periodo. Non è tossico per cui può essere utilizzato anche nei bambini piccoli e nelle donne in gravidanza. Arrivederci e buona serata. Grazie a tutti.